Buongiorno a tutti, sono felice di portare il mio saluto in occasione di questa importante iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Un appuntamento a cui guardo con particolare interesse e per il quale desidero ringraziare il Ministro Elena Bonetti, la Presidente Licia Ronzulli, i componenti della Commissione, gli illustri relatori e tutti coloro che si sono dedicati alla sua organizzazione. Un'occasione preziosa per confrontarci sulle problematiche di oggi, su come bambini e adolescenti hanno vissuto l'emergenza pandemica e su come stanno attraversando questa fase di ripartenza. Sono stati loro i grandi invisibili della pandemia, metterli al centro del nostro progetto per il futuro è una delle priorità di oggi, è un percorso da realizzare insieme dando voce alle loro idee, alle loro proposte e alle loro richieste. Ce lo insegna la Convenzione ONU del 1989 che ne ha fatto uno dei suoi punti cardine insieme al principio del superiore interesse dei minori. L'ascolto dei più piccoli va coltivato ovunque, nelle sedi dove possono esprimere i loro diritti in maniera formale, ma anche nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di sport e di svago, perché solo dando fiducia ai nostri bambini e adolescenti possiamo consentire loro di valorizzare al massimo le loro capacità e di realizzare appieno la loro inesauribile creatività. Non sottovalutiamoli mai, ascoltiamo quello che hanno da dirci per costruire insieme un domani ancora più ricco di opportunità per i loro e per i nostri sogni. Da loro abbiamo tanto da imparare perché sono i veri protagonisti dell'Italia e del mondo che verrà, la nostra principale risorsa, la nostra inesauribile energia. Grazie e buon lavoro a tutti.